ciao a tutti io sono andrea e benvenuti in questo nuovo video sigla oh salve a tutti ok ok ciao a tutti io sono andrea ovviamente lo sapete registisco film un po di robetta sul canale tutto quanto comunque a tema nerd la maggior parte delle cose che faccio e quindi benvenuti in questo nuovo video prima di cominciare come al solito vi lascio qui sotto tutti i link per seguirmi su tutti i social su cui sono presente mi raccomando seguitemi dove preferite ho tutto instagram che metto storie sondaggi e cose quindi insomma seguitemi anche lì ovviamente non c'è neanche bisogno di dirlo la cosa più importante di tutti è youtube iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e lasciare like al video veramente grazie a tutti che lo fanno veramente sta diventando sempre di più e io sono contentissimo quindi bando tutte queste ciance oggi andiamo a fare una nuova recensione in sala ovvero un film che ho visto da pochissimo al cinema e vi dico così a caldo anche se non fa più così tanto caldo quello che ne penso del film in questione oggi vado a parlare di so x so 10 allora avevo già fatto una pop vi lascio qui sopra e alla fine di questo video in merito alla mia rassifica personale di tutti i film della saga usciti fino ad oggi se volete andare a recuperare poi potete sapere diciamo cosa penso degli altri film so per fare un piccolo premessa è una saga che nella mia vita mi ha dato tanta paura veramente come avete potuto vedere ho fatto un video sa chi lo sa sono sempre terrorizzato da bambino dalla marionetta billy il pupazzo di jigsaw insomma anche quando si restano con la maschera da maiale ma sempre fatto abbastanza impressione fino a quando ero piccolo addirittura che non riuscivo a vedere i film poi finalmente ho preso coraggio gli ho visti e mi sono piaciuti molto in realtà lasciando poi che tecnicamente pochi si possano salvare però insomma è innegabile che il primo film solo negli mista diretto da james won sia grazie non si può dire il contrario secondo me è veramente tanta roba che aveva un'atmosfera una regia un montaggio anche un'esagerazione nella costruzione e nella articolazione della storia con il classico finale che è poi ovviamente tra classico nei film successivi ma che alla fine si spiega tutto quello che è successo e perché ci si trova in quale situazione quindi clamoroso secondo me poi dopo hanno continuato con vari film di più o meno successo e insomma siamo arrivati fino a questo a so dieci che vi posso dire so dieci è un film che io non capisco manco perché si chiama so dieci in realtà perché a quanto sembrava spiral doveva essere uno spin off della sala e quindi questo si dovrà intitolare il suo nove io non capisco perché l'hanno chiamato so dieci però insomma a quanto pare spira pensando che fa cagare fanno considerato come il nono film però per me ancora che non hanno dato spiegazioni chiare su questo non è che mi fa impazzire io provo a cercare niente non si riesce a trovare niente in merito a questa cosa trascendo questo posso dire che su dieci vi dico subito che io proprio per i motivi da poco elencati sono un po di parte di questo film e difficilmente riuscirò a darvi una visione nell'insieme intendo che sia effettivamente equivalente alla realtà vi dirò comunque quello che a livello oggettivo se non è non funziona e che però alla fine da fan della saga mi hanno fatto un po abbintolare se posso dire può capitare anche i migliori anche i migliori si fanno abbindolare da certe operazioni di marketing e quindi insomma è tanto per premettere la cosa allora prima di cominciare col citare brevemente la trama di questo film vi ricordo che alla fine di questo video la parte alla fine diciamo della parte non spoiler perché questa recensione sarà senza spoiler quando cominceremo a parlare degli spoiler verrà ampiamente indicato vi dirò la mia posizione di questo film sulla top che avevo diciamo stilato ne ho sentito parlare molto bene di questo film sta andando anche bene al botteghino tutti che dicono uno dei migliori film della saga adesso vi dico la mia la trama di questo film questo film si ambienta tra il primo film solo l'enigmista e il secondo film solo due soluzioni dell'enigma si tratta di un midquel diciamo così e di cosa parla parla di john kramer il nostro protagonista indiscusso di questo film che come sapete essendo malato di un cancro terminale in un certo senso tra una tortura e l'altra cerca di provare insomma a risolvere questo questo suo male in un certo senso tra l'altro del primo film era proprio quella di lui che essendo malato terminale si andava a scagliare contro quelle persone che utilizzavano in maniera diciamo corretta secondo il suo punto di vista la vita che gli era stata donata quindi poi dai film successivi al primo il fatto che lui trovi delle cure delle cose eccetera anche in questo film prima ancora che se non sbaglio nel 2 si faceva vedere che lui si andava a far controllare eccetera ancora non era jigsaw da quello che io ricordo anche perché non avrebbe senso se tu provi a cercare delle cure e intanto ammazzi la gente non ha più senso la tua idea no questa è un po' una stronzata del film quindi io pensavo che questo film fosse ambientato a un certo punto ho detto allora questo film è ambientato prima di tutti i film cioè ci fa vedere un john che ancora non ha questo disprezzo nei confronti di chi di chi non sfrutta la vita che gli è stata donata invece no a quanto pare ha già fatto diverse cose cioè come vediamo poi in tutti gli altri film dopo il 2 grazie flashback essendo ambientato prima del primo già prima del primo aveva fatto delle sperimentazioni con vari personaggi eccetera quindi diciamo che questo ha senso fino a un certo punto però vabbè lasciamo andare la storia quindi abbiamo detto john nel mentre comincia diciamo a ammazzarmi un po' tutti cerca comunque un modo per allungare la sua ira e quindi attraverso delle sedute orali poi appunto ci sono altri mai terminali conosce questo tizio e era con lui in una di queste sedute e dice guarda io ho scoperto questo qui di questa persona che attraverso delle cure sperimentali può curare a ogni male quasi sembrerebbe guarda qua gli fa vedere la ferita che gli hanno fatto per togliere il tumore che aveva al pancreas eccetera e quindi insomma lui dice vabbè cazzo voglio far pure io dice guarda però questo non si può fare in america perché non è permesso e quindi deve andare diciamo fuori dalla media si legherà in questo posto dove faranno quello che gli devono fare insomma gli prometteranno attraverso pagamento che verrà curato ovviamente come si vede anche dai trader non si capisce anche ai trader tutto ciò andrà a facerlo insomma il nostro giorno non verrà curato anche perché ragazzi cioè una volta che sappiamo l'inquadramento questo è scritto su wikipedia se poi no su wikipedia se sono 10 mi dice esattamente dove si colloca il film in realtà anch'io poi vedendo l'ho detto vabbè sarà tra 1 e 2 massimo 2 e 3 anche se non era possibile perché dopo il 2 lui veniva praticamente quasi ucciso da da kim matthews di botte se possiamo dire quindi non avrebbe avuto senso l'ambientarlo tra il 2 e il 3 quindi tra l'uno e il 2 e una volta che sappiamo questo sappiamo che john non verrà mai curato nel senso quindi in un certo senso anche un po telefonata questa cosa del fatto che lui non può essere curato però insomma la cosa è interessante scoprire per quale motivo perché che cosa fanno queste persone con questi soldi che cosa vogliono farci ecco insomma dunque non verrà curato e il nostro john ovviamente utilizzerà questo escamotage per andare a catturare tutte le persone che hanno partecipato e che hanno quindi lavorato per far sì che questa farsa si completasse sia nei suoi confronti ma sia nel confronto di tante altre persone e quindi finiranno nelle griffie di john crammer jigsaw l'unichimista con le sue classiche trappole eccetera e questo diciamo che ci fa piacere che alla fine le trappole sono simpatiche nei fin di so è interessante vedere come si vadano a rovellare per creare queste trappole così eccentriche e esagerate allora quello che secondo me un pochettino è esagerato rispetto agli altri film è sicuramente le trappole stesse queste trappole sono troppo complicate io vedendo io dicevo boh non mi ricordavo che i film precedenti fossero così tanto cattivi nelle trappole nel senso che sì sicuramente bisognava auto infliggersi un ingente quantità di dati danni al corpo ma qui stiamo parlando di cose troppo eccessive che una persona non ce la farebbe mai perché talmente tanto il dolore che sderresti non ce la fressi proprio a completare soprattutto in quel poco tempo che ti viene dato quindi secondo me la cosa principale che cozza rispetto agli altri film è questo il fatto che queste trappole siano veramente troppo troppo dolorose a fine il sangue scorre è anche fatto molto bene anche abbastanza forte alcuni punti quindi diciamo che questo mi è piaciuto e non mi è piaciuto un po così siamo un po nel mezzo allora vorrei parlare un attimino di dobbin bella che secondo me è un grandissimo attore cioè lui ha la faccia perfetta per fare questo elitmista perché sembra un signore comunque abbastanza grande in un certo senso ci dà quel quel sentore di serial killer psicopatico però anche un uomo che tecnicamente potrebbe avere una famiglia essere una brava persona questo ci viene anche fatto vedere in tutti i vari so che lui effettivamente lo era una brava persona e poi è impazzito in questo senso dopo che ha scoperto che sarebbe morto da lì a poco tempo quindi da questa doppia non sappiamo mai se ti fare effettivamente per lui questo è quello che diciamo generava interesse se non è nello spettatore e nella storia di john kramer e qui in un certo senso si ripercorre questo però forse l'hanno reso un po troppo buono da questo punto di vista cioè vogliono farlo figurare come un eroe cosa che in realtà non è nel senso fa delle cose abbastanza discutibili nonostante possano magari essere considerate tra virgolette giuste quindi anche da questo punto di vista un po troppo buonista questo film nei confronti la visione dello spettatore può avere di john però c'è da dire che per me il fabul bello invece è incredibile anche così è un po malconcio che effettivamente si vede che è un po vecchio un po troppo vecchio rispetto ai film precedenti quindi un po cozza magari esteticamente però possono averlo giustificato col fatto che lui era molto malato però insomma diciamo che funziona fino a un certo punto questa cosa i personaggi oltre john sono abbastanza così insomma di passaggio classica carne da macello da uccidere tranne un personaggio che effettivamente è un pezzo di merda e poi secondo me ne parliamo della parte spoiler perché secondo me bisogna parlarne è veramente difficile parlare di certe cose senza fare spoiler però vi posso dire che questo film su certe cose che succedono è sicuramente soprattutto per i fan della saga ma forse anche solo per quelli un qualcosa di interessante hanno stato il fanservice sì un po così ma alla fine funziona e noi ci siamo commentati in sala rispetto magari a soul legacy spirale proprio lasciamolo perdere magari soul legacy che sì ci faceva rivedere john però era un flashback quindi ci faceva vedere il presente un nuovo eventuale enigmista con john al passato insomma era un'operazione un po più così diciamo questa questione da un certo punto di vista funziona molto meglio di soul legacy il film poi vuole anche fare un piccolo attacco alle case farmaceutiche però non lo fa proprio totalmente in questo senso è interessante ma anche meno a livello tecnico comunque il regista kevin bruter non del genere era comunque regista già presente nella saga di si so ha girato su 6 e su 7 che sono i più brutti diciamo così a livello estetico rispetto a quelli precedenti però insomma alla fine ci sta è il suo piacere comunque si è tornato la regia un regista che ha già girato altri film e soprattutto il 7 è proprio bruttino secondo me però alla fine ha fatto un suo una regia di mestiere una regia che anche in certo senso si discosta dai colori sull'azzurro sul verde dei dei film originali qui è più tutto sul giallo un po più sui colori caldi forse anche questo a significare una visione diversa delenichimista in questo senso poi vabbè alcune cose sono un po telefonate magari vengono portate fino quasi al punto quindi no allora è così va così e invece poi succede quindi classiche cose che si risolve tutto e giovanna aveva capito cioè insomma ci sono delle cose che sono un po telefonate però ripeto questo è un film non è fatto principalmente per i fan e credo sinceramente che i fan rispetto a ripeto a sul legacy o spiral lo apprezzeranno io sinceramente l'ho apprezzato ovviamente è un film che ha tanti problemi alcune idee sono proprio stupide se ci si mette a pensare anche solo il fatto di john che è un uomo così intelligente che va a pensare che esistano delle carri è vero che è disperato quello che vuole però insomma che va a pensare che esistano veramente queste cure poi si fa a fregare come un fesso insomma alcune cose ripeto sono stupide se ci si mette a pensare io sinceramente in un'altra visione ho voluto sì pensare ma lasciar correre perché ci sono tante vibes e quindi insomma che dire e appare appare anche amanda per esempio personaggio che comunque è stato importante nella saga di saw era con lei che doveva insomma che era in un certo senso quella che sarebbe dovuto diventare no enigmista poi sappiamo che non sarà così ma che poi appunto era anche off money detective poi diventerà effettivamente lui il nuovo enigmista anche perché è un personaggio molto più carismatico però insomma anche ripeto il rapporto di lei con john come un po che ci ricorda un po su tre su due in un certo senso era molto figo alcune cose purtroppo non fanno più paura come un tempo che i rapimenti non erano resi in maniera incredibile il primo film se vogliamo anche nel secondo qui un po meno qui ormai sono scontati sappiamo già quello che succederà ripeto ogni tanto durante le trappole registrava le solite cose così che funzionavano una cosa molto anni 90 insomma fine anni 90 inizio anni 2000 però diciamo che lo rifanno in maniera un po diversa e ci può stare però ecco diciamo che alla fine il film se lo portano a casa io ovviamente spero visto quello che succede nella fine del film vabbè adesso non parliamo da parte spoiler perché voglio andare nei spoiler per poter parlare liberamente di questo film e nella parte post credit spero continueranno con sol 11 perché non mi hanno fomentato che al suo modo voglio andare avanti la storia e magari ricollegarsi finalmente a sol 7 che finiva in maniera così e soprattutto magari se vogliono inserirci anche il personaggio nuovo inserito in sol legacy quindi cercare di fare un po calderone tanto alla fine queste operazioni funzionano e quindi credo che possano farlo insomma ecco quindi vediamo un po cosa succederà ovviamente adesso andiamo nella parte spoiler il mio voto per so x è due e mezzo su cinque credo di aver detto più o meno tutto quello che interessava la musica quando riparte è fighissima ripeto è un film che funziona tanto per il fanservice funziona tanto perché comunque toby man ha la faccia giusta e secondo me è incredibile a livello stedio così morente ci sta le trappole sono abbastanza cattive il sangue scorre la regia è una regia così rimane lì non è che spicca per qualche guizzo registico di montaggio la musica ci sta quindi alla fine ti fomenti ti fomenti anche per altre cose che adesso andiamo a parlare nella parte spoiler nella mia personale classifica che ho fatto di tutti e i nuovi film della saga adesso 10 lo posiziono al quinto posto quindi subito prima poco prima di so quattro comunque so quattro figo c'ha delle idee interessanti e quindi questo non è migliore di quello però comunque al quinto posto non è male insomma praticamente a metà classifica credo che meriti la metà classifica diciamo così quindi grazie a tutti per aver seguito questa parte non spoiler adesso ci buttiamo a capo questo nella parte spoiler con tutti quelli che l'hanno visto quindi rimanete perché vi sentite un pochettino tutto il mio fomento va bene cominciamo con gli spoiler allora ecco qua con gli spoiler e perché dico che comunque alla fine non funziona questo film perché ero rimasto parecchio deluso da soul legacy e da spiral ancora di più non mi era piaciuto per niente come hanno gestito questa saga cioè tu arrivi fino al 7 che hai comunque un'idea una storia qui andavi c'è anche solo a livello visivo su 1 2 3 4 5 6 7 poi soul legacy addirittura in inglese si chiama gixo un'altra cosa non mi era piaciuta questa non continuità sia semplicemente nel titolo che però poi si ripercuoteva anche nella storia che era un po campata così per aria invece qui finalmente in un certo senso si sono ricollegati siamo tornati un po al vecchio stile in un certo in un certo qual modo possiamo dire questo mi è piaciuto molto me l'ha fatto valutare in positivo rispetto a quei film che erano usciti quindi già per questo per me vince ripeto poi a questo punto se proprio devi fare dei film di merda almeno ci butti dentro quello che vogliamo vedere e quindi cosa vogliamo vedere vogliamo vedere amanda vogliamo vedere offman cazzo quella scena post credit test già quando lui chiama dice detective detto questo è detective offman per forza perché come sapete detective offman già prima del primo film lavorava con john perché l'ha aiutato a catturare personaggi che abbiamo visto per la prima volta in show 1 e li vediamo tramite flashback dopo che la polizia è arrivata e ha visto una trappa già sarà già il gioco è finito quindi vuol dire che che offman era già con lui già da lì insomma è stato uno dei piccoli ed è già dall'inizio praticamente lo aiutava in certo senso quindi bellissima notte del doppio gioco il piacere tantissimo quella roba anche se è tutta un po così esagerata però è un personaggio quindi felicissimo di aver sentito che era lui felicissimo di aver sentito dopo e dopo gli parla se non sbaglio al telefono e poi dopo appare finalmente mark offman riappare nella saga ce l'abbiamo fatta rivederlo bellissimo e non vedo l'ora di vedere se il prossimo film lo faranno vedere di più perché io adesso lo voglio vedere cioè sfruttate questo cazzo di costas man dealer che ha questo personaggio fighissimo e sfruttiamolo nel suo 11 facciamo vedere che film ha fatto in suo 7 ricolleghiamoci a questo film insomma facciamo il classico gioco presente e passato come facevano i film vecchi secondo me hanno tutte le carte in regola per fare un suo 11 che ci fomenterà a noi fan quindi speriamo bene e speriamo che non lo facciano tra 10 anni cioè tra un anno o due anni lo fate senza che ci fanno aspettare altri 10 anni insomma basta no? io lo faccio ogni anno ma ogni 10 no? grazie per favore fatele un pochino più spesso questi film con queste operazioni di questo tipo cosa dire poi? il personaggio quello cattivo cazzo è possibile che si è salvato cioè l'unico stronzo che doveva morire gli fa fare una trappola che quasi era impossibile fuggire a quei poveracci là a quella che si drogava gli ha fatto fare una trappola che fa spai e mentre si entrava sul soffitto quell'altra si doveva la yamna gamba una cosa allucinante quell'altra si doveva aprire il cranio cioè insomma cose assurde e qui erano solo dei collaboratori poveracci ok che devi fargli vedere ma fai qualcos'altro trova un modo magari fai salvare quella drogata e lì vuole far cattivo il film no? perché lei sembra come se Amanda dice però lei mi ricorda un po' a me quindi cerchiamo di salvare invece alla fine muore però in realtà poi la stronza di turno sopravvive quindi secondo me se l'hanno tenuta viva è per farla poi utilizzarla per il prossimo film penso che l'hanno tenuta salva perché quella meritava la forza di vivere quella pezza di merda che era la prima che doveva essere uccisa gli avevo l'idea di fare un altro film io spero proprio che fanno questa cosa metà presente quindi che ci fanno vedere cosa è successo a Hoffman nel bagno dove l'ha messo il dottore perché secondo me lui non può essere morto lì e poi magari si ricollegano pure a Soul Legacy poi a questo film con dei flash perché insomma dovrebbe venire una cosa figa magari un po' accozzagliosa però secondo me è figa quindi speriamo bene e insomma niente quindi che posso dire le scene che mi sono piaciute ci sta qualcosa ripeto per me più che altro per il fanservice il fatto di Hoffman il fatto di Amanda i rapporti con John funzionano bene ci sta quindi credo che da questo punto di vista funzioni per il resto come ho detto una parte dello spoiler non è che funzioni proprio granché anche perché cozza con alcune cose cioè il finale che lui esce col bambino con Amanda con una famiglia che dice è un po' una merda secondo me devono assolutamente nel senso il prossimo film non puoi farlo appaire come un buono che cazzo lì John sta per morire affogato e poi io avrei preferito un John che già un po' prima che loro pensano che avevano vinto vanno a prendere i soldi e tutto no che sta lì che sta tu a morire avrei preferito una cosa diversa che magari iniziava la trappa intanto iniziava dove dicevano vanno a prendere i soldi e cominciava sta cosa quindi si slegava come classico succede come è successo anche a Hoffman che quindi sembrava che era lì incatenato poi alla fine dei libri che era tutto una merda in scena quindi e poi per loro che escono col bambino tutti salvi lui è buono cioè lui era un serial killer ragazzi non possiamo pensare che non lo sia quindi perché farci vedere in questo senso cioè la cosa bella proprio del primo era il fatto che lui era totalmente non era neanche un antieroe era un pazzo psicopatico che però aveva degli ideali che potevano essere compresi se non fosse che poi la mattanza era troppo eccessiva che non potresti mai viva quella immagine se è un sadico un malato di mente se pensi che gli fa bene ammazzare quelle persone in quel modo le persone devono pagare ma non in quel modo quindi la cosa figa era proprio questa che c'era una linea che veniva valicata che però alla fine comunque è sempre un pezzo di merda quello quindi a sto punto no quindi questa è una cosa figa qui invece già una figura con questa scena con loro che escono con la luce tutti felici insomma è un po' una merda quella là non mi è piaciuta proprio devo dire fa proprio cagare però alla fine del film per uno o due motivi e poi dell'apparizione finalmente di sto cazzo di Mark Hoffman funziona e per me il due e mezzo se lo prende scritta gialla un film medio che si può vedere certo magari se non siete proprio fan non so quanto lo apprezzerete però magari ecco non è mai tardi per iniziare a vedere i film e apprezzare anche quello che viene messo qui e là da questo film insomma ecco io vi saluto abbiamo finito grazie per aver seguito questa parte spoiler credo di aver detto tutto quello che mi interessava dire sicuramente qualcosa non l'ho dimenticato è sempre così purtroppo però insomma spero di aver detto tutto quello che dovevo dire vi ringrazio tantissimo per avermi seguito vi mando un bacione e ci vediamo con tanti altri video questo periodo sarà un po' particolare perché credo che di fine a novembre non è che ne vedrò tanti però vi parlerò di tante altre cosettine quindi ci vediamo presto come sempre sul mio canale capote